Eccomi, mi trovo insieme a Teddy Gordini, la campionista italiana e ricordiamo medaglia d'argento ai campionati mondiali, bella esperienza. La direi, speriamo di ripensarla quest'anno perché si ripresentano i campionati mondiali in Corea a Tremble. Ecco, la tua preparazione qual è in questo momento? Ma dal momento mi sto allenando presso la mia società, ma solo temporaneamente perché sto anche slavocchiando stagionalmente. Ma da settembre mi chiamo di nuovo il full immersion per la preparazione mondiale, andremo in Cina a fare uno stage con le cinesi, dopodiché probabilmente rimarremo direttamente in Corea. Ecco, parlaci di questa tua passione, com'è nata? La mia passione nasce perché, l'ho sempre detto, io gattonavo sul rinco perché mio papà è il mio maestro, da sempre, più ciò che va a parte della mia famiglia e della mia vita, mio fratello è un ex cugine, anche professionista, mio cugino è un ex cugine, ho sempre vissuto in mezzo all'ora di guantoni e di sacchi, perché, come i bimbi che giocano qui adesso, io giocavo in palestra da mio padre e sono... E piano piano, quando nel 2001 finalmente è stata aperta anche alle donne, ho pensato di buttarmi, ho iniziato a frequentare la palestra nel 2002, poi l'avrò permettendo e nel 2004 mi sono iniziato a fare la soluzione. Ormai lo faccio da ghiaccia. Diciamo che ho approdato purtroppo un pochino tardi a questo... Però vengo da moltissimo, c'è un po' di precedenti, quindi... Comunque, complimenti, è cominciato tardi, però insomma già era di casa, questo, come lo possiamo chiamare, hobby dove tu sei nata, diciamo, all'interno. Oggi ti trovi qui per Salva Mamma e sei la protagonista e testimonial ovviamente dello spot contro la violenza delle donne. Sì, per me è stato un onore metterci soprattutto la faccia e rappresentare come dicevano tutti i miei compagni la nazionale. È un progetto che è meraviglioso veramente, perché è veramente ben studiato, che raccogliano in particolari, gli offre un sacco di possibilità in un momento difficile per loro come quello dopo aver subito una violenza. Nella valigia ci sono il telefono cellulare, eventualmente una permettazione, un permettamento al barcher, la possibilità di utilizzare i professionisti quali avvocati, gli offici e anche, insomma, utilizzare il contratto di un psicologo, tutto quello di cui ci può essere bisogno e che anche loro stesse possono non rendersi conto di aver bisogno pur di non tornare in nuovo nel luogo da cui quella violenza è venuta, perché molti non stanno venendo da andare e ritornano a casa, ma è tutto un certo l'unizioso, no? E' una storia, cioè la possibilità, ecco. Questo è sicuramente una grandissima iniziativa, un grande supporto e aiuto. E mi parlavi della tua amica campionessa? Sì, Simona Galassi, che combatterà proprio qui nel resto di Roma, a Ostia Lido, nell'8 di agosto. Approfitto per farlo in bocca al lupo nel caso dovreste sentirlo. Sia lei che anche a Monica Gentili, che conosco anche questa bandiera nazionale, che vi ci farà con me nella torta. Sono due bellissimi, ma io sono pugilato, mi sono piaciuti di andare a vederli e io spero di riuscire a venire giù anch'io per andare a fare il tifo. Simona è la mia correzionale, nel dilettantismo è assolutamente l'atleta che ha di più. Penso anche di me, è la donna che la presenta in Italia. Io non posso che essere la luce. Noi facciamo un grandissimo di bocca al lupo, ricordiamo le date? Sì, è il 8 agosto, sono una galassi, Monica Gentili con Anita Torti e noi in novembre e in miliardi. Mi permetto di fare anche i complimenti alle mie con nazionali, insomma della nazionale Junior Youth, che invece gli europei una settimana fa hanno fatto dieci medaglie tra ori, argenti e bronzi e questo vuol dire che il pugilato qui in Italia c'è ed è forte e si passa in bagno. Poi ricordiamo che sei fresca di vittoria circa dieci giorni fa. Nei campionati d'Italia, allora questa volta, non c'era 2-3, speravo che fosse così, quindi mi è andata così, spegniamo anche di proseguire perché il record di Simona l'ho già battuto. Sì, sono l'atleta italiana con più match, è arrivato il punto di artistico, gli ho 105, lei è arrivata dal 1987 e adesso vorrei raggiungere il suo regolo di portare medaglie agli italiani. Perfetto, ricordo, vediamo se mi sbaglio, 80 vittorie, 16 sconfitte e 6 pareggi. No, 6 pareggi sono sicura, 16, forse 17 sconfitte sono arrivate, ma le vittorie potrebbero essere votate e non potrebbero essere scampionati. Perfetto, allora noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo e complimenti per tutto, veramente. Grazie. Grazie, ciao.